benvenuti amici del canale in questo nuovo video andremo a vedere come sostituire il filtro abitacolo su opel astra h andiamo a vedere come si fa ecco il filtro dell'aria ragazzi questo è della corteco è un filtro di ottima marca l'ho preso dal mio ricambista di fiducia dove mi recco per acquistare i pezzi delle macchine alcune volte le acquisti i ricambi su auto dock però diciamo la maggior parte della volta e vado la mia ricambista di fiducia perché controlla bene i codici che siano quelli corretti questo il filtro abitacolo per opel astra h faccio vedere il codice e andremo a sostituirlo ora andiamo all'auto e cominciamo a levare il cassetto auto per lavorare meglio mi sono preparato un faretto ora apriremo il cassetto prima lo svuoteremo e poi andremo a toglierlo vediamo come per prima cosa ragazzi le viti da togliere sono queste sono 4 1 2 3 e 4 e vi servirà un inserto torx non ho le chiavi qui torx perché ce l'ho a capannone ma ho un set di chiavi che ha gli inserti torx quindi riesco a togliere tranquillamente le viti è un lavoro da fare con calma prendetevi tutto il tempo necessario e non e non abbiate paura è abbastanza semplice l'importante è a fare le cose con calma questo ragazzi è il modello opel astra h 1400 gpl tech con motore a ecotec tu importa adesso qua forse vediamo se ci arrivo ok il modello specifico è proprio questo però con i codici telaio o con la targa soprattutto con la targa su autodoc riuscite a trovare il centro con l'altra vite bene ora in teoria il cassetto deve venire via ecco qua ragazzi tirando leggermente il cassetto viene via attenzione una cosa non strappate perché qua è da togliere la spina nella luce quindi ragazzi si toglie questa e il cassetto viene via tutto si vede come come sotto è il filtro abitacolo è la in fondo esattamente lì qui guardate qui esattamente qui stavo pensando ragazzi che è veramente molto importante cambiare i filtri antipolline filtri abitacolo delle auto tenere ben pulito tutto il sistema di aereazione della macchina perché poi quando si accende l'aria condizionata poi d'estate è un vero disastro guardate come era ridotto questo filtro quindi adesso pulisco bene tutto montiamo quello nuovo vi faccio vedere la differenza con quello nuovo che abbiamo guardate allora questo è quello nuovo della corteco e questo è quello che c'era in auto in abitacolo ma si può comunque l'avevo chiesto facevamo italiani di sostituire questi filtri e poi sapete questo il risultato quindi ormai mi faccio le cose da solo e così sono sicuro che siano fatte per bene continuo a pulire e lo rimontiamo i filtri hanno un senso di montaggio perché se vedete sul filtro c'è scritto flow poi ve lo faccio vedere quando lo andrò a montare accendete la ventola della macchina ok qui accendete la ventola della macchina e controllate il verso il soffiaggio quindi vedete in questo caso la ventola che è questo il ventilatore soffia verso di là quindi dovremo mettere il senso del filtro in questo senso qua quindi non il contrario e poi comunque accendete un attimo in modo che tutte le pallizze guardate tutte le pallizze escano se avete il compressore potete darsi anche una soffiata con il compressore comunque abbastanza pulito ho pulito tutto pulito anche questo guardate pulito anche tutto questo pezzo qua poi pulirò anche il cassetto prima di rimontaggio cominciamo a rimontarlo qui adesso non ho il compressore quindi non soffierò con il compressore c'è l'uomo non mi manca la pistola praticamente mi devo fare un piccolo upgrade qui al laboratorio ragazzi allora il flow vedete c'è la freccia il flow c'è la freccia quindi lo andremo a montare così ok perché la ventola soffia da qua dove c'è il mio dito verso dove c'è il mio pollice ok quindi vado a montarlo così ho pulito tutto per bene lo inserisco ecco qua ragazzi dopo un po di fatiche a far passare il primo tratto e sono riuscito a filtro aria installato benissimo guardate faccio vedere bene eccolo qua c'è un po di ombre del telefono ecco effetto installato alla perfezione avevo tolto anche questa vitina qua esattamente questa per consentirmi un attimo di piegare in giù questa bocchetta qua che è una bocchetta che arriva da qua ok quindi l'ho solamente avuto un po di modo di gioco qui esattamente qui non è un altro che un clipettino di plastica così ed era pure l'asco io adesso questo lo vado a sostituire perché ce l'ho di ricambio perché ho un sacchetto del civic che ha tutti quei pezzettini lì bene adesso richiudiamo perfetto bene ho fatto un bel lavoro ho pulito tutto è tutto messo bene adesso testo un attimo il flow dell'aria una volta che ho chiuso il cassetto sono a posto mettiamo questo sopra poi sotto perfetto adesso non li agganciamo qua una due guardate ragazzi prima avvito a mano poi con la mia bussoletta così a mano senza chiave perché è proprio plastica ragazzi questa che non andiamo a spanare qualcosa perché è tutto sotto il cruscotto è meglio non tirare e andate già così siamo a posto ok ok adesso prendo la chiave la chiave a cricchetto la impostiamo su avvitatore ok fatto bene ora rimontiamo questo pezzo qua che va sopra devo prendere questo qua che è nuovo pezzo nuovo questi pezzi qua basta inserirli e poi praticamente schiacciare praticamente la parte sopra ok perfetto bene ora riagganciamo il cassetto però prima di montare il cassetto lo pulisco facciamo l'igiene anche al cassetto una bella igiene eccola qua puliamo bene con il nostro panno in microfibra togliamo tutta la polvere tutta la sporcizia di anni e poi avremo un abitacolo bello pulito sano ok ragazzi test ventola perfetto funziona benissimo 4, 3, 2, 1 a 1 funziona molto bene si sente il flusso dell'aria perfetto e l'aria è molto più pulita di prima bene chiudo tutto montiamo il cassetto allora prima cosa agganciamo la lampada ok poi andiamo in dentro continuiamo un attimo che il filo non vada a infigliarsi da qualche parte ok adesso dovremmo inserire il cassettone vediamo qua come è fatto ok ci sono praticamente dei perni dovremmo trovare quei perni lì ok quindi una volta lì è nato spingiamo si sente un bel click e riavitiamo le viti ed il gioco è fatto ragazzi molto semplice serve un po' di pazienza perché il filtro fa fatica ad andare dentro effettivamente però ce la potete fare tranquilli se ci sono riuscito io non è un problema fare queste cose ecco qua ecco qua mi raccomando non stringere troppo queste viti qua perché sono sulla plastica che non andiamo a rovinare la macchina e il cruscotto bene finisco di montare e chiudiamo qui la puntata ecco ragazzi la cosa che più mi stupisce è la quantità di materiale su questo filtro non so se potete vedere ma come lo vedo io qui guardate quanta roba c'era dentro bene ragazzi chiudiamo la puntata qui avete visto come sostituire il filtro abitacolo su opel astra h e seguendo tutte le mie indicazioni riuscirete anche voi facilmente bene ragazzi a presto al prossimo video tante nuove cose sul mio canale ciao a presto e se avete dei dubbi iscrivetemi ciao ciao ah chiudiamo la puntata ring type è tutto ciao 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 questa è la guarnizione che dovrò andare a sostituire alla guarnizione vecchia del corpo farfallato del civic il codice è esattamente questo va bene sia per la 1400 iniezione che per la 1400 iniezione sportiva di s essenzialmente alla stessa guarnizione ok andrò a sostituire perché penso che quella che c'è su sul civic è rovinata e poi andremo a vedere questo tipo di accessorio qui la montata sul motore del civic che è sul motore integra ce l'avevo invece avevo quello della cusco invece ho preso questo praticamente che dovrebbe condensare i vapori di olio qui in modo che non vengano mangiati dal gruppo aspirazione e che vadano a finire poi sulle valvole quindi andrò a installarlo qui dentro c'è un gruppo filtro qui c'è la sua astina per vedere il livello ok qui c'è un'astina per vedere poi il livello e qui dovrò andare a aprire ragazzi adesso non ce la faccio con le mani però e in teoria tutta la condensa tutti i fumi del motore devono finire qui dentro e non devono essere più mangiati dal motore come invece adesso avviene c'è anche un filtro ci sono tutti i suoi accessori e andremo a fare una puntata apposta e poi vedremo se questo accessorio da pochi euro perché ragazzi questo costa pochi euro che mi ho dato credo 20 euro una cosa del genere non è come quello che avevo sulla integra una volta avevo praticamente uno della Cusco veramente bello però quando ho dato via la macchina ho lasciato su tutti gli accessori che avevo montato quindi diciamo questo qua per il mio piccolo 1400 va più che bene andremo a vedere se funziona su integra funzionava vedremo questo questa è la versione diciamo quella un po' più eco economica cinese vedremo nelle prossime puntate faremo una puntata su questo su questo tipo di accessori non fa aumentare nessun cavallo il motore ma tiene solamente pulito il gruppo farfallato in più tutta la sporcizia dei fumi invece di finire bruciata nella marmitta finisce qui dentro quindi è una cosa che risulta anche più ecologica dal punto di vista ambientale è tutto in alluminio molto bello questo accessorio però vedremo se funziona ok grazie a tutti Grazie a tutti.